Gli orticoltori professionisti sanno che il sistema AirPot è la soluzione perfetta per consentire alle piante di sviluppare una massa di radici sane. Presso il Royal Botanic Gardens Q di Londra, oltre 3.000 specie di piante rare o in via di estinzione sono coltivate in contenitori AirPot. La soluzione AirPot favorisce una migliore crescita della pianta in due modi. Il compost ben drenato e aerato permette ai batteri sani di rilasciare più sostanze nutrienti alla pianta. Inoltre, il design rivoluzionario migliora sensibilmente lo sviluppo delle radici. Il processo inizia con la radice a fittone. Quando raggiunge la base, la maggiore quantità d'aria nel terreno di coltura provoca la disidratazione della sua estremità. Questo ne determina la potatura, stimolando la crescita laterale delle radici. Ogni radice viene poi guidata dalla forma della parete del contenitore verso un foro di aerazione dove un'ulteriore potatura stimola la ramificazione della radice proprio in prossimità del fusto. Il processo si ripete e la pianta sviluppa rapidamente una massa di radici fibrose che puntano verso l'esterno. Ciò permette alla pianta di assorbire una maggiore quantità di sostanze nutritive e acqua accelerando la crescita. Per dimostrare i vantaggi del sistema, abbiamo ripulito le radici di questo Aesculus che ha passato due anni in un contenitore AirPot da 20 litri. La potatura provocata dall'aria ha prodotto una fitta massa di radici fibrose senza spiralizzazione, pronte ad attecchire istantaneamente quando l'albero è trapiantato nel paesaggio. Una caratteristica unica di questo sistema è l'abilità di utilizzare la parete di AirPot per creare contenitori di qualsiasi dimensione. All'interno di AirPot, le piante sviluppano una vigorosa massa di radici fibrose in pochissimo tempo. Questa fitta massa radicale, avvolta in un telo di iuta e rete, agevola anche il trasporto e la movimentazione degli alberi. Le piante cresciute in contenitori AirPot arrivano al paesaggio senza deformazioni e con una struttura radicale meravigliosa. Le radici esplodono subito dalla zolla e affrontano la sfida della crescita nel nuovo ambiente, garantendo la sopravvivenza della pianta e permettendole di svilupparsi senza che siano necessari ulteriori controlli. Le zolle standard richiedono un certo tempo prima di gettare nuove radici, con un rischio maggiore di insuccesso. Al contrario, lo stock di piante cresciute nei contenitori AirPot attecchisce subito, con un tasso di riuscita del 100%. In tutto il mondo, le piante cresciute nei contenitori AirPot sono richieste specificatamente per i più grandi e prestigiosi progetti paesaggistici, dove non vi è spazio per errori. Ad esempio, tutti gli alberi del Parco Olimpico di Londra sono stati cresciuti con AirPot, così come i 12.000 alberi e arbusti dell'Expo 2015 a Milano. Lo straordinario sviluppo Vertical Forest ha integrato piante AirPot nell'architettura di due blocchi residenziali. Quando gli occhi del mondo sono puntati sul tuo progetto, gli alberi cresciuti con i contenitori AirPot garantiscono i migliori risultati. AirPot